Questo è l'albero simbolo di Salvatronda, dove ci trovavamo sotto da ragazzi, abbiamo fatto le berichinate, ci trovavamo tra ragazzi e ragazze. Qui una volta c'era un grande buco dove si mettevano anche le birre. Luogo di ritrovo di vita comunitaria e simbolo di Salvatronda, frazione di Castelfranco Veneto. Ruota infatti attorno al secolare Bagolaro il progetto di riqualificazione tanto atteso della piazza. La necessità era quella di mettere in sicurezza l'albero secolare, un albero censito anche come bene monumentale. Qui sono nati appunto una serie di lavori per modificare, per togliere tutti i parcheggi che c'erano attorno all'albero, che lo soffocavano, per creare degli spazi pedonali per la comunità. E' stata rifata la piazza con il porfido, sono state rifate le zone a parcheggio, la recinzione della scuola, sono state fatte delle aiuole e l'impianto di illuminazione che illuminerà il simbolo di Salvatronda, cioè il Bagolaro che vedete qui alle mie spalle. 610 mila euro spesi bene, di cui un po' più di 100 mila da parte dell'amministrazione comunale. Opera che rientra nell'ambito dei finanziamenti europei Next Generation EU. L'intervento di valorizzazione della piazza ha avuto come obiettivo principale la messa in sicurezza dell'incrocio tra via Centro e via Lovara, proprio sotto l'albero secolare. Era un momento di ritrovo, era la comunicazione, se troviamo sotto cesone. Questo era ogni giorno, ogni sera, prima di andare a casa, si doveva passare di qua.